Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session con l'Evoluta su Bitcoin. Parleremo di qual è la situazione attuale e che cosa andare a controllare per vedere se continueremo a rimanere in questo trading range. Prima di tutto facciamo di nuovo un rapido intervento. Allora, fino a qui abbiamo avuto un annuale che ha lanciato anche un t più 7 quadriennale ribassista. Per cui, attenzione, stiamo aspettando una partenza di un secondo annuale, ma per ora nessuno swing è stato violato e il tempo manca. Siamo solo a 28 barre che lanciano eventualmente solo un t più 4, ovvero un ciclo semestrale. Di controcanto, da qui sopra, abbiamo 249 barre che fanno che cosa? Che, essendo sotto questo massimo, hanno dato vita a un primo semestrale da quanti giorni? Se non ricordo male, è 139? Ok, 139 giorni. E noi siamo sul secondo semestrale inverso, arrivato a 110. I semestrali non devono avere, se sono inversi o non inversi, lo stesso tempo, non devono durare lo stesso tempo. Certo, più ci spingeremo verso i 168 giorni, e noi siamo a 110 su 128 di media, 168 di massima, e più a un certo punto dovremmo iniziare a spingere verso l'alto. Ma essendo ancora tanto distanti dai 168, mancherebbero ancora due mesi praticamente interi, dobbiamo capire se questo è un raccordo di grado mensile, quindi abbiamo tempo fino alla 43esima barra per capirlo, oppure se finalmente a un certo punto si scatterà verso l'alto, si violerà uno swing maggiore di quello che per ora abbiamo violato, che non è uno swing di un annuale, e si inizierà ad andare sopra la media mobile a 50 barre, 50 periodi, questo è in rosso. Per ora, per ora, forza non ne abbiamo ancora in particolare, e stiamo cercando proprio di capire che cosa. Stiamo provando a capire se il mensile inverso si è chiuso qui, a 26 barre, oppure si è chiuso qui, a 38. Questo che cosa cambierebbe? Cambierebbe tutto perché se il mensile fosse partito da questo massimo, sarebbe già vincolato completamente a continuare a cercare massimi. Se invece fosse partito da qui, sarebbe privo di vincoli. Ed essendo arrivati a 9 giorni su massimo 11, abbiamo che cosa? Inquadriamo meglio la situazione da più vicino. Eccoci qua. Noi abbiamo il nostro piccolo mensile, che è arrivato o a 24 barre dove può aver chiuso, oppure a 28, su 43, quindi tempo ne ha ancora per continuare a lateralizzare, su, giù, su, giù, su, vedremo. Di inverso però, come detto, siamo arrivati a 9 barre su massimo 11 e quindi abbiamo due possibilità ancora di salire contro un po' di scendere perché in realtà ho fatto 1, 2, 3, 4 giorni a rialzo, bello tra l'altro come sequenza che non c'era in passato, e adesso però abbiamo tutto il tempo per anche andare a chiudere questo terzo T che è arrivato a 4 giorni su minimo 6. Se ne facesse due, sotto un massimo, farebbe peraltro partire poi eventualmente un nuovo settimanale inverso. dato che siamo tra l'altro a sabato e domani e domenica e mediamente non fanno dei movimenti pazzeschi, anche se c'è stato un bel rimbalzo sulla media mobile a 50 periodi dopo che è stata violata, ok, abbiamo che cosa? Abbiamo che in questo momento questo che poteva sembrare un nuovo T-3 inverso ma che non ha violato nulla di particolare per partire, ok, ci ci ha riportato su, quindi come detto siamo arrivati a 9 cicli giornalieri inversi che partono da massimi, scendono su minimi e tornano su massimi, su massimo 11, quindi può salire eventualmente ancora per un paio di giorni vincolandosi e se non riuscirà appunto a superare permanentemente la media mobile a 50 periodi. Lato inverso, siamo talmente tanto ancora indietro che ci si mette come al solito un allarme sopra i 21.606, qui abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5 barre sotto questo massimo quindi siamo già a posto e nel caso questo massimo fosse violato prima della 24esima barra, un po' prima ovviamente, non alla 23esima, valuteremo ovviamente di andare long. Per quanto riguarda invece il lato indice, abbiamo fatto un primo T-3, un secondo giornaliero, un terzo giornaliero streaming sito, è brutto, ne vediamo mai però troppi, dobbiamo prendere in considerazione che su Bitcoin dopo un vincolo di basso può fare un massimo superiore al primo T-5 sul secondo, cosa molto bizzarra sugli indici, e poi andare, tornare a scendere, ok? quindi ormai questo diamolo per scontato. E da qui, quindi qui può essersi chiuso tra l'altro un primo T-1, da qui può essere partito un secondo T-1 con una buona spinta, che è arrivato però soltanto appunto a 20 barre con l'attuale, e che può andare a chiudere serenamente appunto a 24, magari adagiandosi piano piano anche dalla 24esima in avanti sulla media mobile per poi vedere che forza ci sarà. Ricordatevi che peraltro qui, che cosa succede alla Kumo? Si assottiglia parecchio, quindi diventa più penetrabile. A queste cose facciamo attenzione. Qui vedete come è spessa, qui no. Per cui un'altra delle cose che mi premeva raccontarvi. Questo per ora direi che è tutto. Mi hanno detto che non facevo proiezioni di medio periodo, o che non avevo ancora fatto proiezioni di medio periodo, ma perdonatemi, me lo può dire chi non ha, se non ha iniziato da poco, con l'analisi evoluta, o non vede questo canale da tempo, nel senso che il medio periodo è, a un certo punto ci sarà un rimbalzo per far partire, non solo la chiusura di questo annuale inverso, ma anche finalmente l'annuale lato indice, con una bella spinta ci sarà. Però prima dobbiamo verificare se qui non si tornerà temporaneamente in area 17.605 dollari prima di far partire questo nuovo annuale con spinta forte verso l'alto e con un tot di giorni che lancino questo nuovo annuale, oltre a uno swing che va violato. per cui queste sono già analisi di medio barra lungo periodo, quando già vi dicevo che da qui partiva un pluriennale, un triennale, quadriennale, quinquennale di inverso, non sto dicendo una cosa che non va ben oltre al medio periodo, ma che si avvicina già a lungo. Quindi fate sempre attenzione quando iniziate lo studio di una materia a dire delle cose che magari non sono corrette, ok? Concentratevi, iniziate a studiare. Quando poi continuerete a, studiando, osservare ciò che succede, cercando di capire che cosa sta succedendo e se le analisi sono corrette, a quel punto capirete che queste sono analisi di medio e lungo periodo, non soltanto di breve. Adesso dobbiamo concentrarci su questa parte qua. Siamo troppo in laterale, ok? Finché non usciamo da questa lateralità e lo faremo o con un raccordo, ormai è abbastanza probabile, quindi un ritorno in zona minimi e poi finalmente una partenza, oppure bisogna iniziare a vedere degli HFT che ci facciano salire non soltanto sopra questo massimo, ma anche ma anche sopra la media mobile a 50 periodi. Per quanto riguarda uno swing molto importante adesso che ci dirà che cosa parte da questo massimo, vi rimando al gruppo premium. Come avete visto, peraltro, ho cambiato già su Facebook tutti i gruppi, tra poco toglierò anche la vecchia insegna di Financial Armor, rimarrà soltanto Evoluta, anche il gruppo premium si chiama Evoluta, si cambia e dopo le vacanze ne vedrete delle belle. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Arrivederci.